La prima tappa di questo viaggio è un classico sul tema. I poveri nel Medioevo di Michel Mollat, edizione italiana per i tipi di La Terza di una sintesi di carattere sociale che lo storico francese pubblicò nel 1978, ad alcuni anni di distanza dai due volumi dedicati agli studi sulla storia della povertà nel Medioevo fino al XVI secolo, due volumi che erano usciti a Parigi nel 1974, in cui lo storico tirava le somme di 14 anni di ricerche collettive, ricerche che appunto confluirono nelle oltre 850 pagine delle études sull'histoire della povertà. Il saggio che invece io vi consiglio di leggere è una sintesi, come vi dicevo, una sintesi densa e concisa che ci porta all'incontro non con la povertà che è un concetto, ma piuttosto con i poveri, con le condizioni esistenziali, con le situazioni realmente vissute, insomma con la cruda realtà delle condizioni di vita. Il termine povero aveva in epoca medievale un significato molto esteso e variabile, riconducibile all'idea di privazione. Era un lemma capace di accogliere profili, destini, storie di vita molto diversi e anche mutevoli e la storiografia ha ripetutamente sottolineato la porosità e la plasticità di questa parola. Michel Mollat dà una definizione che è citatissima e che costituisce un pilastro nella definizione dei poveri medievali. Dunque la definizione di povero e del suo stato, ci scrive Michel Mollat, non può che essere molto larga. Il povero è colui che in modo permanente o temporaneo si trova in una condizione di debolezza, di dipendenza, di umiliazione contraddistinta dalla mancanza. Mancanza di che cosa? Degli strumenti di potenza, degli strumenti di considerazione sociale, dalla mancanza di denaro, di relazioni che contano, di capacità di influenza, mancanza di potere, mancanza di cultura, mancanza di qualificazione professionale e tecnica, mancanza di alti natali, mancanza di vigore fisico, di salute, di intelligenza, mancanza di libertà, mancanza di dignità personale. Il povero vive alla giornata, scrive Michel Mollat, e non ha alcuna possibilità di sollevarsi dalla propria condizione senza all'aiuto di altri. Ma questo lo vedremo.